Ciao a tutti, sono Raffaele Camarelli, fondatore di Amaro M0. Amaro M0 è un amaro un po' particolare perché è un amaro che si contrappone agli amari alpini, fatti con erbe alpine, perché è un amaro interamente fatto con prodotti che vengono presi nelle zone limitrofe al mare. È un amaro calabrese, lo producevamo in Calabria. I sapori dominanti sono il cedro della riviera dei cedri e l'acqua di mare c'è una punta di salinità che esalta tutti gli altri sapori. È un prodotto giovane, è nato da poco, è nato nel 2020-2021 dall'incontro della nostra azienda che si chiama Vitamara, con un produttore di liquori locali della zona della riviera dei cedri che si chiama Liquorificio Aulicino. Con loro abbiamo fatto questo prodottino che è stato subito apprezzato perché ha vinto nel 2021 il titolo di miglior amaro al mondo ai World Liquor Award e ha vinto poi tutta una serie di premi tra il 2021 e il 2022. Siamo molto contenti di questo prodotto, sta andando molto bene. Allora, l'amaro M0 si gusta al meglio a temperatura da frigorifero tra i due di 6 gradi e sentirete il sapore del mare? Amaro M0 taste the sea assapora il mare.